E' conosciuta come la Pompeia africana per la repentina distruzione di cui fu protagonista alla fine del VI secolo. E' Adulis, uno dei più importanti scali commerciali tra l'Africa orientale e il Mediterraneo, nell'Eritrea di oggi. Qui transitavano spezie e merci di lusso, avorio, gusci di tartaruga, perle e pietre preziose, tanto che per gestire quegli scambi il regno di Axum, di cui faceva parte Adulis, fu il primo e unico dell'Africa subsahariana a coniare una moneta. Ad ospitare la mostra Adulis, la città perduta, è il Museo Castiglioni di Varese. Nove anni di ricerche scoperte archeologiche sulla costa del Mar Rosso, in Eritrea, cominciate dai fratelli archeologi Angelo e Alfredo Castiglioni, a cui venne affidato dalle autorità locali un progetto di ricerca per valorizzare il patrimonio culturale del paese. Il percorso espositivo, corredato da video, fotografie e reperti, racconta la storia del porto commerciale prima dell'alluvione che la distrusse e gli scavi archeologici realizzati dal 2011 ad oggi. Qui abbiamo allestito questa mostra che mio figlio ha voluto per ricordare questo nostro intervento, questa nostra ricerca in Eritrea. Devo dire che la ricerca sta dando dei grossi risultati. Uno dei più importanti è che abbiamo portato alla luce una chiesa del IV secolo. Ed è proprio la basilica paleocristiana della seconda metà del IV secolo il cuore della mostra. Il modello olografico e la ricostruzione del recinto presbiteriale interno consentono di ammirare lo splendore degli arredi di marmi bizantini che decoravano la chiesa, testimoniando la precoce espansione del cristianesimo nel corno d'Africa. La mostra resterà aperta al Museo Castiglioni fino al 15 di aprile. Grazie. Grazie.